Ciao a tutti, il motivo che vi presento oggi è questo bellissimo motivo a trecce molto particolari su una base di maglia legaccio. Il motivo è formato da 17 maglie, più 3, più ovviamente le 4 di vivagno. In questo caso io ho fatto due motivi, quindi ne abbiamo uno e due, mentre in altezza ne abbiamo uno, due, tre e quattro. Allora, in questo caso io ho montato sul ferro appunto 17 maglie, più 17 maglie, più 3, e ovviamente le 4 di vivagno che vanno a formare appunto il mio bordo. Sul davanti si presenta appunto in questo modo, mentre sul dietro è così. I ferri di ritorno li vediamo insieme come vengono lavorati e sono comunque uguali per tutti i ferri. Si realizza in altezza in 8 ferri e adesso andiamo a vedere come si procede. Allora, in questo caso io ho già fatto due motivi, mentre in altezza ne ho fatto tre. Quindi andiamo a fare insieme un motivo solo, che è formato appunto da 17 maglie, in questo caso io ne ho aggiunte altre 17, più 3, ok? Quindi andiamo a fare insieme un solo motivo. Allora, primo ferro. Ovviamente vi lascio il vivagno qui sopra, il link, e andiamo a fare appunto il vivagno. Inizia il motivo. Allora, 9 diritti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 rovesci, 1, e 2, e 6 diritti. 1, 2, 3, 4, 5, e 6. Adesso non farò altro che andare a ripetere questo motivo, ok? Chiudo il ferro con tre diritti, 1, 2, e 3, e ovviamente il vivagno. Il secondo ferro. Andiamo a fare ovviamente il vivagno che è a rovescio, sul rovescio del lavoro, quindi ovviamente vado a fare il vivagno. e il motivo. Sono tre diritti, 1, 2, e 3. Vado adesso a ripetere il motivo vero e proprio. E sono tre diritti, 1, 2, 3. Tre rovesci, 1, 2, 3. Due diritti, 3 rovesci, e 6 diritti. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, e 6. Ripeto di nuovo il motivo, quindi da 3 diritti, 3 rovesci, 2 diritti, 3 rovesci, e 6 diritti. Ci vediamo al terzo ferro. Terzo ferro. Vado a fare il vivagno. 9 diritti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9. Due rovesci, 1, e 2, e 6 diritti. 1, 2, 3, 4, 5, e 6. Vado a ripetere questo motivo. Chiudo il ferro con tre diritti. 1, 2, e 3. E ovviamente il vivagno. Quarto ferro. Vado a fare il vivagno che è al rovescio, sul rovescio del lavoro. Tre diritti. 1, 2, e 3. Vado adesso a ripetere il motivo. E sono 3 diritti. 1, 2, 3. 3 rovesci. 1, 2, 3. 2 diritti. 3 rovesci. E 6 diritti. 1, 2, 3, 4, 5, e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9. 1, 2, 3, 4, 5, e 6. Vado a ripetere il motivo. Chiudo il ferro con tre diritti. Quindi 1, 2, e 3. E ovviamente il vivagno. Sesto ferro. Vado a fare il vivagno che è al rovescio. 3 diritti. 1, 2, e 3. Adesso inizia il motivo che vado a ripetere. E sono 3 diritti. 1, 2, e 3. 3 rovesci. 1, 2, 3. 2 diritti. 3 rovesci. E 6 diritti. 1, 2, 3, 4, 5, e 6. Settimo ferro. Vado a fare il vivagno. 3 diritti. 1, 2, e 3. Prendo il ferro ausiliario. Sposto sul ferro ausiliario tre maglie. Quindi 1, 2, e 3. Le sposto dietro il lavoro. Vado a fare tre diritti. 1, 2, e 3. Riprendo le maglie del ferro ausiliario. Le risposto sul ferro di sinistra. E le lavoro a diritto. Quindi 1, 2, e 3. 2 rovesci. 1, e 2. Sposto tre maglie sul ferro ausiliario. Questa volta sul davanti del lavoro. Vado a fare tre diritti. 1, 2, e 3. Riprendo le maglie del ferro ausiliario. Le sposto sul ferro di sinistra. E vado a lavorarle a diritto. Quindi 1, 2, e 3. Vado adesso a ripetere questo motivo. Chiudo il ferro con tre diritti. Quindi 1, 2, e 3. E ovviamente il divagno. L'ottavo ferro. Vado a fare il divagno. Che è a rovescio. Tre diritti. 1, 2, e 3. Vado adesso a ripetere il motivo. Tre diritti. 1, 2, e 3. Tre rovesci. 1, 2, 3. Due diritti. Tre rovesci. E sei diritti. 1, 2, 3, 4, 5. E sei. Chiudo il ferro ovviamente col vivagno che è a rovescio. E il motivo è praticamente terminato. Il motivo terminato appunto si presenta in questo modo. Con delle bellissime trecciolone. Vi ricordo che sotto al video vi lascio il motivo per iscritto. E ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!